Ecco che scopriamo il monumento, come vedete, avvolto da una barriera Sacchi e non è casuale. Piano piano. Ibo, i quali hanno il casco in aria. Io ho dato molto di più per avere dei notti con il casco e da progettare in aria. Non ci sono, va bene a rotte. Già, Ignazio, da oggi vieni per sempre nel nostro cuore. Grazie. 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 Grazie.